Il processo alla vecia è una delle tradizioni più sentite in città, che trova origine nel folklore veneto, friulano, italiano ed europeo. L'evento vuole esorcizzare tutti i mali dell'anno trascorso, condannandone la rappresentazione, ovvero la vecia, e a auspicare così un avvenire migliore. Puntuale come sempre nel giovedì di mezza quaresima, il 15 marzo 2012, il processo si svolgerà secondo il consueto ITER. Alle 19 il corteo partirà dal municipio e percorrerà le strade del centro storico, dove alle 20.30 avrà luogo il processo che si concluderà, come sempre, con la condanna all'arrogo della vecia. Il presidente della Pro Pordenone, Luciano Forte. Questa è la quarantesima edizione della vecia, insomma, è una manifestazione datata che in qualche modo rappresenta la Pordenone, quella ironica, quella scherzosa, e a volte anche sarcastica. È una manifestazione che i Pordenoni si aspettano. Il calendario prevede che la mattina il pupazzo, il fantoccio, faccia il giro per le scuole alimentari, materne e per le case di riposo. Nel pomeriggio sarà esposta in piazza 20 settembre. Alle 8.30 è prevista la rescita in piazza. E naturalmente noi vi aspettiamo tutti quanti perché credo valga la pena. Quest'anno i testi sono tambureggianti, sono molto ironici e quindi in qualche modo sì, è rispondente alle aspettative, credo. Quest'anno non mancheremo a questa edizione e dopo i fuochi pirotecnici che ci sono stati l'anno scorso, quest'anno io penso, avendo letto il libricino, che la cosa sia ritornata nell'ambito di quello che è lo spirito di questa manifestazione che deve, deve toccare con la sua satira il palazzo, deve rivedere quello che è successo in città durante l'anno in modo intelligente, in modo proprio. Diamoci appuntamento a giovedì sera alle 20.30 e ci divertiremo sicuramente tutti. Grazie a tutti.